Buonasera a tutti, siamo qui per questo incontro con Lorenzo Ceccotti, disegnatore, autore, illustratore, concept artist e insegnante, per parlare di un tema abbastanza particolare. Questo tema riguarda le accelerazioni visive e soprattutto come è stata affrontata la velocità nei fumetti. Allora, per iniziare possiamo dare anche una definizione scientifica di velocità, che è un po' la grandezza che misura il rapporto tra uno spazio percorso da un corpo in movimento e il tempo impiegato per percorrere questo stesso spazio. Chiaramente, se parliamo di arte o in ogni caso di linguaggi, questo concetto è stato espresso in tanti modi da registi, fotografi, illustratori, disegnatori e appunto autori di fumetti. Chiaramente la parte che riguarda invece i linguaggi dove l'immagine è in movimento, e dunque film, cartone animati, televisioni e quant'altro è in questo senso facilitata, perché l'immagine in movimento prevede un tempo narrativo che coincide con il tempo di fruizione. Quindi c'è una durata stabilita e questi linguaggi appunto possono muoversi utilizzando il tempo. Al contrario, noi parleremo dei linguaggi che usano e hanno usato immagini statiche, fisse, ferme, per appunto rappresentare il tempo usando invece lo spazio e non appunto movimento o durata. Se devo iniziare a parlare di un discorso simile, mi viene da tornare molto indietro nel tempo e associare questo concetto all'avanguardia artistica che forse più è legata all'argomento di questa sera, appunto il futurismo. Il futurismo siamo più di un secolo fa e in particolare vediamo questa immagine alle nostre spalle che è una scultura di Umberto Boccioni, siamo nel 1913, il titolo è Forme uniche nella continuità dello spazio e già ci racconta qual era l'intento dell'artista, quindi raccontare, catturare un movimento. Per fare ciò Boccioni arriva a una deformazione anatomica quasi ai limiti dell'astrattismo e lo fa in una scultura, quindi in un'opera tridimensionale che poi verrà esposta in un'ambientazione, ambientazione che fa parte di quest'opera in quanto rimane ferma ed è, diciamo, rientra nella percezione del visitatore, mentre il corpo in movimento cambia proprio la sua conformazione. Andando avanti, sempre siamo nell'ambito del futurismo, l'altro grande artista che ricordiamo è Giacomo Balla. In quest'opera, che appunto raffigura un dettaglio, Balla ha catturato il dinamismo di un cagnolino al guinzaglio. Per fare questo ha, diciamo, in qualche modo moltiplicato gli arti dell'animale, anche la sua coda, diciamo, tutte quelle che sono le parti in movimento e le ha moltiplicate nello spazio per dare questa idea appunto del dinamismo, della velocità, del tempo che passa mentre un corpo è in movimento. E qui chiaramente siamo ancora nel terreno delle immagini statiche e singole. Ora, questo discorso viene applicato anche in fotografia. Allora, in questo caso vediamo una fotografia che fa uso della tecnica che si chiama penning. Viene usata soprattutto per gli eventi sportivi e quindi per far vedere anche immagini che a occhio nudo possono sfuggire. Questa tecnica si basa sul fatto che il soggetto in movimento viene catturato in tutta la sua nitidezza immobile e al contrario è lo sfondo a muoversi, a non essere nitido. Un'altra tecnica che si usa sempre in fotografia invece è quella del mosso. E qui funziona un po' al contrario del penning, anzi esattamente all'opposto, per cui il corpo in movimento è completamente sfocato e un po' come nell'opera di Boccioni tendente all'astratto. Mentre lo spazio circostante è perfettamente nitido e chiaro. Ora, questi esempi che abbiamo visto adesso sono, appunto, dicevamo immagini statiche, ma singole e quindi che hanno, diciamo, una sola possibilità di raccontare. Un fotogramma unico slegato da un prima e un dopo. Mentre noi, appunto, oggi vorremmo addentrarci un po' nel fumetto e quindi nei vari tentativi che sono stati fatti di rappresentare, appunto, la velocità a fumetti. Allora, intanto, buonasera. Appunto, sono Lorenzo Cercotti, mi ripresento, anche se Alessandro mi ha già presentato. E vi voglio ringraziare per essere qui, prima di tutto. Ora, sì, dunque, il fumetto, secondo me, pone un quesito ancora più interessante, perché, come giustamente segnalava Alessandro, in queste immagini che abbiamo visto ci sono tutta una serie di problematiche risolte, no? Che sono quelle comunque di rappresentare la velocità, ok? Il movimento in un'immagine che è statica, no? Quindi di trasformare un'informazione che in teoria si, come dire, si raccoglie in maniera corretta tutti i giorni nel tempo, ok? In un medium che è senza tempo, no? Perché sono medium statici, ok? Come la scultura, la fotografia. Il fumetto, in questo senso, secondo me, è una sorta di salto mortale al quadrato, da questo punto di vista, perché il salto mortale è doppio, perché, diciamo, lo schiacciamento del tempo su un medium statico avviene a due livelli, cioè nella singola vignetta, che rappresenta un'azione, può rappresentare un momento, può rappresentare una serie di azioni anche all'interno della stessa vignetta, è collocata all'interno di una pagina, ok? E la pagina stessa rappresenta vari momenti, ok, della stessa storia. Quindi la scansione, diciamo, del tempo, ok, avviene su due piani, diciamo uno all'interno della vignetta e uno all'interno della pagina. Il fumetto, quindi, traduce nella maniera più eclatante possibile, ok, il tempo in una scansione spaziale, ok, della pagina, ok? Ora, dunque, il fumetto, questo è un classico, diciamo, del fumetto, chiamiamolo fumetto non giapponese, fumetto non giapponese, esatto, fumetto americano, ed è Flash Gordon, ma di Alex Raymond, ed è un fumetto che usciva a strisce su dei, erano delle strisce domenicali, ok? Quindi una volta a settimana venivano pubblicate queste strisce e fumetti in cui era possibile leggere le avventure di Flash Gordon. Ora, la scansione per vignette qui definisce, no? Con un ritmo regolarissimo, no? Perché abbiamo tutte vignette, tutte grandi, uguali. Fin troppo. Esatto. La scansione del tempo, per cui c'è un prima e un dopo, ok? Questo senza dubbio, no? Dalla prima vignetta fino all'ultima vignetta, arriviamo a leggere l'intera storia. Però ecco, parlare di velocità all'interno di un fumetto come Flash Gordon è un po', come dire, una forzatura, senza dubbio, perché Flash Gordon nasce proprio con l'idea di riuscire a rendere queste sei vignette che devono durare una settimana, ok? Il più intenso possibile e chiaramente, come dire, l'idea di accelerare la lettura non era certamente negli interessi, no? Di Alex Raymond. Quindi, vuoi per una questione di intenzione, vuoi per un'impostazione grafica estremamente accademica in cui tutto quello che viene disegnato viene disegnato con estrema perizia grafica, un alto livello di dettaglio, Flash Gordon è un fumetto che richiede nella sua fase di fruizione un altissimo livello di analisi dell'immagine da parte del lettore. Cioè, non è una storia a fumetto. Le stesse sei... Arriveremo a capire fra poco che le stesse sei vignette in mano a certi autori possono durare una frazione di secondo di lettura. Nel caso di Flash Gordon richiedevano un quarto d'ora, dieci minuti, di lettura di fumetto. E questo, diciamo, garantiva un'esperienza tutto sommato migliore per i lettori che dovevano aspettare per un'altra settimana la lettura del fumetto. Ora, la priorità di Alex Raymond quindi in questi fumetti è quello di una rappresentazione icastica delle figure, cioè estremamente dettagliata, con un taglio quanto più pittorico fosse consentito dai limiti di riproduzione meccanica di questi fumetti che ovviamente era stampa dell'epoca su comunque materiali di grande tiratura, quindi parliamo comunque di una stampa tutto sommato dozzinale. Adesso li possiamo rivedere finalmente con... non era certo la qualità che stiamo vedendo adesso, insomma, il livello di qualità di stampa era comunque grossolano, quindi lui era, come dire, costretto a girare attorno a tutta una serie di limiti tecnici, ma sta di fatto che il suo disegno è un disegno di grande intensità grafica, no? Non so se vuoi dire qualcosa su Flash Gordon, ma... Ma in realtà qui siamo appunto da uno dei pionieri del fumetto, siamo negli anni trenta e si affaccia a un'idea di fumetto realistico. Chiaramente però prima di questo non esistevano i disegnatori di fumetto realistico, quindi venivano dall'illustrazione... Ne esisteva, no, uno però importantissimo, che è uno dei miei preferiti... Esatto. Chester Gould, esatto. Tanti ce n'erano, per carità, però non era una figura professionale... Era per farlo a battuto sul fatto che esisteva Winsor McCaig. Beh, certo, però non era certo realistico, no? Rispetto al dettaglio di Alex Seren. Certo. Apriremo un'altra... Esatto. Un'altra discussione. Esattamente. Però al di là di questo si vede che dietro c'è uno studio accademico, rispetto a tanti altri autori. E le immagini hanno appunto questa fissità. Esatto. Zero dinamismo, proprio per quello che dicevi tu. Sì, hanno una ponderazione classica, c'hanno proprio l'idea dietro dell'immagine drammatica, ragionata in una chiave post-neoclassica, ellenistica. Sicuramente, perché poi i panneggi, anche lo studio dei costumi, che insomma vengono dall'antichità, dalla mitologia, da tutte le fonti che noi conosciamo, rielaborati in una fantascienza degli anni trenta. Certo. Barnogart. Questo è Barnogart. Barnogart in realtà introduce una serie di argomenti grafici. Stesso periodo poi. Stesso periodo. Si misura Barnogart con i primi problemi diciamo cinetici importanti, perché Tarzan, comunque un person... Ecco, forse dovremmo dirlo, Barnogart disegnava Tarzan. è un personaggio diciamo che ha sicuramente nella sua nella sua atleticità, quindi nei suoi gesti, come dire, atletici... Un pronto supereroe. Esatto. Ha la forza, diciamo, la spettacolarità di questo momento, passa per il corpo di Tarzan. Però ecco, sicuramente diciamo, Barnogart resta comunque un autore che per quanto esplora sicuramente tutte le possibilità anatomiche del corpo di questo personaggio. Resta comunque, come dire, sicuramente un tipo di disegno sicuramente scolpito nella pietra proprio da questo punto di vista. È molto più vicino, diciamo, a un disegno preparatorio per la scultura che non per il fumetto che poi vedremo. si ricorda infatti l'arte rinascimentale, non a caso anche Alex Raymond, no? Si rifaceva a Michelangelo e arriva a un certo punto a una quasi abbiura del fumetto eliminando anche i balloon da Flash Gordon e disegnando, dando più attenzione a queste fisionomie imponente. Esattamente. Qui invece passiamo a... Questo è Bernie Bryson che è un altro disegnatore di fumetti che io adoro, però sia chiaro nel senso non è che li stiamo passando in rassegna per dire ecco loro non hanno capitato anche dei nostri miti. Esattamente, assolutamente. Però ecco, Bernie Bryson è un altro di quei disegnatori che somiglia molto di più a un pittore prestato al fumetto che non a un fumettista da Tukur. Il lavoro, diciamo, posto che per me è un fumettista assoluto, nel senso ci mancherebbe, però ha una radice grafica talmente intensa per cui ogni singola immagine veramente è un magnete per l'attenzione e la sequenza diciamo diventa un esercizio come dire difficile secondo me per il lettore perché si tratta di decidere di staccare gli occhi da uno di quei disegni meravigliosi e passare al successivo. Quindi il livello diciamo di intensità per ognuno di questi disegni sono sicuramente un buco nero del tempo. Cioè il tempo Bernie Bryson è bravissimo a fermarlo. Congelato totalmente dall'alto poi siamo negli anni settanta e anche lui non a caso era associato in questo destudio insieme ad altri autori che venivano tutti dall'illustrazione Jeff Jones Caluta e Bernie Bryson ovviamente e Barry Windsor Smith tutti autori poi prestati al fumetto. Esattamente. Ora ci tengo a segnalarvi una cosa nell'immagine che abbiamo visto prima di Balla quello che è interessante è che Balla se noi partiamo dall'assunto che sicuramente il mosso fotografico è una cosa con cui l'uomo si è trovato a dover fare i conti con la nascita della fotografia e non è un caso che l'arte cinetica futurista nasca in un periodo in cui la fotografia cominciava a essere come dire una cosa esportante. è molto interessante il fatto che l'idea di ragionare sull'immagine distorta nel tempo è già diversa da questa prima revisione artistica che fa Balla e quella invece di schiacciare più immagini statiche nel tempo che è una cosa diversa. Vero sovrappone i fotogrammi. Esatto noi possiamo leggere tante posizioni indicizzate individuabili chiaramente complete delle figure che sono disegnate in questo dipinto ed è molto interessante il fatto che la stessa tecnica viene utilizzata da De Luca che è un disegnatore a mio avviso formidabile credo anche all'avviso di tutti grazie a Dio e che decide come dire di rappresentare di fermare ogni singolo momento anche qui siamo in una sorta di paradosso grafico in cui tutti i momenti di questo spostamento di questo personaggio nello spazio vengono collassati e schiacciati in un unico grande momento grafico che è questa pagina fumetti che è un classico assoluto del fumetto citata citata da tantissimi autori e poi pensiamo anche al contenuto di questa tavola parliamo della riduzione di Shakespeare qui è amleto poco prima del famoso quesito sull'essere o non essere quindi tutta la parte riflessiva che lo porta poi a questo dubbio esatto sì sì peraltro è anche una rappresentazione grafica di tutta una serie di paradossi che poi hanno coinvolto tutta la filosofia diciamo di 800 e 900 cioè anche il discorso sull'atto che sconfessa l'azione che poi peraltro è stato super amato da Carmelo Bene e poi Lorenzaccio e tutto quanto in queste immagini qui è incredibile perché è rappresentato proprio in una maniera eccellente nel senso è sicuramente una rappresentazione del tempo come se ne sono viste pochissime all'interno del fumetto sta di fatto che siamo sempre lontani dalla velocità esatto è una serie anche qui di immagini statiche di fotogrammi sovrapposti in un unica esatto ora sta di fatto che il fumetto occidentale ha fatto i conti sicuramente con l'azione e con la velocità nella sua maniera più eclatante ok con un determinato genere di fumetto che è il fumetto supereroistico ok in cui il corpo nello spazio viene disegnato in tutti i modi possibili immaginabili fino ad arrivare alla noia più totale del corpo nello spazio ecco diciamo che i fumettisti americani si sono confrontati con la velocità in tutti i modi da subito poi esatto con l'obiettivo chiaramente di cercare in qualche modo di portare la spettacolarità dell'azione cinematografica dell'animazione per sfondare il limite sostanzialmente del disegno immobile per esaltare come dire tutte quelle che sono le caratteristiche più spettacolari che i supereroi si portano dietro ok ad esempio flash in assoluto è un caso eclatante perché è un supereroi velocissimo ok come super suotere una super velocità ok comunicare proprio quello no il suo passaggio velocissimo però chiaramente insomma l'occhio umano lo deve percepire esattamente ora quello che è interessante del fumetto americano è che il fumetto americano introduce un concetto tecnico molto interessante che è la rappresentazione oggettiva della velocità ovvero noi siamo spettatori di una cosa che si muove molto veloce ok che ci passa davanti e che combatte davanti a noi che corre quindi esiste quest'idea del mosso no sugli oggetti che si muovono ok con un punto di vista che è quanto più slegato dai soggetti possibile nel senso noi non ci stiamo muovendo con loro siamo noi che vediamo loro che si muovono ok e quindi viene rappresentata la scena d'azione con un piglio fotografico tutto sommato no cioè con tutta una serie di espedienti grafici che sono linee cinetiche cose eccetera deformazioni che servono comunque a darci l'idea di un di una cosa che si sta muovendo davanti a noi per rappresentare l'illusione del movimento all'interno del fumetto ed è un tipo di rappresentazione del movimento quindi oggettivo ok perché oggettivamente davanti a noi ok e riguardo alla velocità nel fumetto americano posto che già queste tavole che stiamo vedendo sono delle tavole modernissime si sono di qualche anno fa di Francis Manapool e hanno già dentro ok tutte le influenze del fumetto giapponese ok ci sono un sacco di cose che poi andremo a vedere però nella fattispecie io continuo a fare questa distinzione netta per un motivo tecnico poi vi spiegherò nessuna forma di razzismo amo tutti i tipi di fumetto che esistono e sono tutti modi meravigliosi di rappresentare il tempo però nello specifico giapponese hanno proprio tirato fuori una serie di cose che vale la pena come dire di analizzare in grande dettaglio e quindi ecco siamo diciamo sempre in una rappresentazione estremamente sofisticata della realtà grandissimo dettaglio sui personaggi grandissimo dettaglio su tutto quello che succede è richiesta un'attenzione e un tempo di lettura ok del disegno a mio avviso elevato parliamo di fumetti che escono 20 pagine in un mese infatti e quindi hanno tutto sommato il bisogno anche di durare un po' ok perché il lettore dei fumetti non è felice di spendere 4 euro per un fumetto che dura 5 secondi quindi sono dei fumetti che hanno un'alta densità grafica in cui la velocità c'è ma è tenuta diciamo in briglia anche perché spesso le tavole di azione in un fumetto americano sono alternate alle cosiddette talky page cioè tavole dove si chiacchiera si parla ci sono sempre queste sale riunioni dagli Avengers alla Justice League dove si danno informazioni testuali che ovviamente sono in minoranza rispetto a quelle d'azione ma in qualche modo come dicevi tu tengono a bada la velocità esatto ora noi abbiamo avuto un autore speciale ok in Italia che si chiama Stefano Tamburini che è un autore che si è interrogato moltissimo sulla velocità da fumetti ok è un proto accelerazionista ok Tamburini ed è un fan del futurismo esattamente ed è uno scrittore di fumetti formidabile che ha scritto peraltro uno dei fumetti diciamo che ha avuto la fortuna internazionale più grande sono stati fatti in Italia e si tratta di Rank Xerox che è un fumetto mitologico che era mai lezzanzario non è neanche più un classico una roba impossibile da contenere in qualunque conversazione la cosa che è molto interessante è che Tamburini si era molto interessato all'idea del fatto di diciamo da disegnatore scrittore con una testa enorme ok era un disegnatore che si era probabilmente subito stancato del tempo che gli deve fare i fumetti per cui lo dico ovviamente con effetto nel senso amava il disegno era anche circondato da grandi del disegno bravissimo stava in un gruppo di disegnatori formidabili scopre Tanino liberatore decide di fare Rank Xerox con liberatore ora quello che è interessante è che lui rappresenta è una mosca bianca l'altro è un estremo ok all'interno del fumetto non giapponese perché si interessa tantissimo invece all'accelerazione alla velocità alla luce proprio del fatto che ha una foga formidabile di raccontare tante cose incredibili nelle sue storie e non sopporta l'idea di dover aspettare un mese successivo per raccontare gli eventi successivi alla puntata del mese o della settimana in base a dove ha deciso di pubblicare in più lui fa una mossa un po' bizzarra cioè si carica Tanino Liberatore che è un disegnatore di un'intensità grafica formidabile è universalmente diciamo vezzeggiato come il Michelangelo del fumetto lo scultore di fumetto esatto ed è un disegnatore che all'epoca vuoi per il fatto che non credo di fare torto a Tanino penso sarebbe qui a dire sì è vero confermo ci metto la firma è uno che comunque si divertiva molto a disegnare ma sempre un po' faticato all'idea che per raccontare una storia a fumetti servissero tutti quei disegni quindi era un po' lento graficamente e quindi c'è questo cortocircuito di questo disegnatore formidabile lento ma intensissimo graficamente è uno scrittore che è ossessionato da raccontare quante più cose possibili e di andare avanti con le sue storie per cui Rank Xerox è questo fumetto stranissimo in cui all'interno della stessa pagina succedono 20 cose quasi tutti colpi di scena intuizioni eccezionali non passaggi così di secondo piano però c'è una selezione dei contenuti sì in questo testo meraviglioso che si chiama il fumetto e il suo doppio citando Antonio Nartò il suo doppio è i soldi esattamente i soldi che peraltro forse si trova ancora l'hanno più ristampato quelli di stampa alternativa però ci sono ancora le copie ok comunque lo riuscite a trovare i mille lire esattamente è un miracolo quindi se lo trovate prendete si chiama una matita a serramanico esattamente contiene appunto questo piccolo saggetto in cui lui dice io i Rank Xerox sono costretto a fare una pagina in cui i Rank Xerox è a Roma prende un treno scende a Palermo un aeroschiato scusa scende a Palermo sfonda una finestra rompe il collo a un telepate fa una telefonata torna in ieri faccio anche il tempo di far fare una battuta alla moglie che rimane vedova quindi ecco questa cosa qui è un esempio diciamo di come raccontava Tamburini a fumetti sempre un altissimo tasso di velocità ma sempre un altissima intensità grafica ok quindi siamo di fronte di nuovo ok ha un tipo di approccio al disegno estremamente figurativo e con una come dire veramente una densità di informazioni tale per cui la lettura non può essere veloce ok quindi Tamburini rappresenta il è lo scrittore di fumetti più veloce nel mondo del fumetto fermo ok l'hai detta questa è molto bella anche perché la sua velocità è nei testi esatto sì sì è proprio nella scansione dei fatti ok nella scansione esatto però immagine prima perdonami ma sempre per chiudere su Tamburini a un certo punto Tamburini va talmente oltre sulla lentezza del disegno sua per primo chiaramente che decide di fare a meno del disegnatore e ha questa idea prende i disegni di Melgraaf e di Alex Raymond che abbiamo visto prima essere tutto fuorché veloci e rapidi anche nella fruizione e decide di accelerarli li accelera deformandoli con la fotocopiatrice e quindi seguendo un po' la luce della fotocopiatrice riesce a creare queste deformazioni che visivamente ricordano appunto il movimento di un corpo nello spazio e a un certo punto arriverà anche all'astrazione cioè non distingueremo nemmeno più i personaggi ma vedremo solo questo flusso di segni che nella nostra mente indica la velocità la rapidità con cui si svolgono le azioni esattamente ora questo era per darvi diciamo un'infarinatura dozzinalissima un po' grezza ecco però di quello che per me rappresenta un polo ok dell'espressione a fumetti l'altro polo è sicuramente il manga e il manga qui diciamo dobbiamo farci un peraltro senza come dire voler far pesare per niente i miei gusti in questa selezione blackjack è il mio fumetto preferito giapponese e quindi è il primo che vediamo dunque blackjack lo porto come esempio perché tezuka in questo fumetto tezuka non è certo il primo mangaka della storia se avete visto la mostra si è il dio dei manga viene definito il dio dei manga proprio perché probabilmente è l'autore che racchiude ok nella sua opera probabilmente la forma più classica no è l'equilibrio più grande fra tutte quelle che sono le necessità narrative del fumetto giapponese e blackjack è un fumetto che ho molto amato e che ho anche molto studiato proprio per capire dov'è che fossero i segreti ok di un fumetto del genere ho cominciato a studiarlo che ero molto piccolo quindi non avevo una grande preparazione tecnica poi crescendo piano piano certe cose si sono chiarite dunque ora io ho bisogno di fare un un discorso un po' lunghetto ok su tezuka quindi siamo qui a posto tu sparami esatto dunque il manga nasce è un fumetto diciamo vuol dire un fumetto in giapponese questo pezzo lo sappiate tutti quindi sono i fumetti nati in giappone nascono con una tradizione pittorica alle spalle che ha delle radici importantissime nei grandi classici della pittura che sono ad esempio Hiroshige o Kosai o Utamaro insomma tutta la grande tradizione della pittura e delle stampe delle xilografie sì sì ukiyohe dunque quello che è interessante è che e qui io devo uscire un attimo da questo flusso organizzatissimo che Alessandro Rogeri ci ha gentilmente preparato per buttarmi in una ricerca mia personalissima peraltro queste immagini non le troverete da nessun'altra parte per tutta una serie di motivi quindi guardatele bene perché non vi ricapiterà sono delle immagini tratte da uno sketchbook di Okusai ok ora peraltro di questo sketchbook ne ho parlato in un sacco di interviste quindi se qualcuno poi magari va a cercare le ritroverà queste affermazioni però non le troverete mai corredate di immagini sono degli sketchbook ci sono alcune immagini che sono molto famose come queste questa qui è stata pubblicata anche in un'edizione della Tashen di questo libro che si chiama Okusai Manga che è molto grande è una raccolta di questi disegni di Okusai un attimo che le apriamo come presentazione ok e sono molto interessanti perché si vede la scansione per volumi del lavoro di Okusai ed è pazzesco che sembra Kandinsky però cento anni prima e quello che è formidabile nel lavoro di Okusai è il lavoro di studio sulla leggibilità dell'immagine ok sulla scansione dei volumi chiave per comprendere quello che c'è disegnato nel suo lavoro e questo appunto come vi dicevo di questa roba ne troverete a pacchi in giro quindi non mi soffermerò su questo quello su cui mi soffermerò sono invece queste pagine che all'inizio non capivo e che poi ho capito con un certo senso di sgomento in cui Okusai divide la pagina in due parti una parte superiore e una parte inferiore nella parte superiore abbiamo una serie di segni ok e nella parte inferiore abbiamo un disegno ok ora quello che è interessante è che questi segni che vedete sopra sono gli elementi grafici rigidi con cui sono composti i disegni sotto ok come se fosse la sua clipboard no da cui copiare e incollare degli elementi vettoriali nella parte alta del disegno e nella parte bassa ora quello che è intrigante e qui chiaramente ok questa cosa qua è eclatante no nel senso si vede ma quello che mi ha scioccato è stato arrivare in effetti a comprendere il fatto che qua dentro si nasconde il segreto della differenza che c'è fra il disegno occidentale e quello orientale il disegno orientale si basa su degli archetipi grafici ovvero su degli elementi grafici che sono il modo migliore e più semplice di disegnare una determinata cosa ok rappresenta una sorta di elementi indivisibili no di atomi ok indivisibili grafici che messi insieme creano un'immagine per fare un parallelo ok con una cosa che noi usiamo tutti i giorni per farvi capire quanto è pesante questa cosa dal punto di vista concettuale loro è come se componessero le immagini con la stessa logica in cui un poeta compone una poesia perché le parole sono rigide ok sono un vocabolario che usiamo tutti è lo stesso condiviso da tutti gli scrittori solo che puoi finire per essere Fabio Volo o Baudelaire in base all'ordine in cui le metti ok e questa cosa qua è notevole ok in una situazione in cui noi invece veniamo da una cultura alla ricerca dell'unicità del segno no qui invece si passa dall'idea dello studio della definizione di un di uno strumento migliore possibile e poi della condivisione ok ora quando ero piccolo io e cominciavano uscire le prime robe di animazione di fumetto giapponese mi ricordo che il cliché ok della critica italiana era quella di dire che i fumetti giapponesi i cartonimati giapponesi fossero fatti con lo stampino o anche col computer o col computer col computer fa ridere ora la cosa che è interessante è che loro non si rendevano conto nella loro ignoranza profonda che era vero ed era vero perché era la loro caratteristica più alta la bellezza più grande del fumetto giapponese è proprio il fatto che parte da un sistema condiviso di segni ok e quello che è ancora più interessante è il fatto che la scrittura giapponese parte da un sistema condiviso di disegni che sono gli ideogrammi il motivo per cui il fumetto giapponese come vedremo in futuro ha questa facilità di lettura è perché tratta il disegno allo stesso livello alla stessa stregua della scrittura ok quindi il fumetto giapponese è il vero fumetto convergente come lo vediamo succedere anche in alcuni casi di fumettisti nostri no io ne cito uno di cui vi consiglio oltretutto anche di comprare il libro perché per me è un capolavoro assoluto ok della storia del fumetto anche se è uscito da due minuti per me è già nella storia del fumetto senza dubbio che è la terra dei figli di Gipi ok la terra dei figli dei Gipi è scritto come disegnato ok e questa cosa ma parlo proprio in termini di calligrafia ok di grafia ok quindi c'è quell'automatismo di trattare no il testo il disegno esattamente lo stesso modo ok non è un caso che Gipi sia uno di quegli autori che dice sempre che quando vedi font utilizzati nei balloon sembra di vedere un fumetto in cui sono tutti i personaggi che sono doppiati con loquendo tipo con le robe text to speech tipo dove sei andato sono andato quindi ecco però ecco questa roba qui nasconde secondo me la differenza che c'è fra i fumetti che abbiamo visto prima e quelli che stiamo per vedere ok un codice condiviso esattamente aggiungo un altro dettaglietto sempre in queste cartelline che è questo sì allora Osamu Tezuka sempre lui a voi non vi ricorda niente questa roba sì e quello che è interessante è il fatto che la bellezza del lavoro di Tezuka su la comprensione delle espressioni cioè sul fatto di provare a spezzettare tutto l'animo umano in una serie di icone riconoscibili è durato per tutta la sua carriera cioè ha continuato a creare la cosa bella poi di questi fumettisti è che loro sono trovati a fare neologismi in questo vocabolario dei segni grafici quindi Tezuka la vera importanza che ha è quella nel senso che ha aggiunto un sacco di parole al vocabolario dei fumetti e la cosa che è formidabile è il fatto che lui questa cosa l'ha capita in una maniera radicale a un punto tale da farne uno studio tecnico che sfocia dall'analisi delle espressioni come icone scusate adesso arriveremo anche a questa roba qui alla rappresentazione degli interi corpi come icone la riduzione ideogrammatica del corpo dell'espressione della recitazione ora andiamo in questa tavola di Blackjack da cui siamo partiti quello che è molto interessante di questa tavola è il fatto che vengono fuori una serie di caratteristiche che sono proprie del fumetto giapponese ovvero l'idea che i volti dei personaggi e i balloon in cui c'è scritto il testo siano i due elementi chiave per la prima comprensione della pagina fumetti ovvero il colpo d'occhio di una pagina di un manga passa dalla lettura dei volti quindi delle loro espressioni e il contenuto dei balloon il motivo per cui i volti dei personaggi di un manga sono sempre sostanzialmente vuoti e chiusi in delle forme estremamente semplici da comprendere tondi quadrati triangoli molto stilizzate è proprio per lasciare l'espressione l'emoji al centro di un balloon che è il volto del personaggio e che sia perfettamente leggibile e chiaro per avere una scansione super rapida del disegno della storia cioè noi sappiamo chi sta parlando con chi sta parlando se è felice se è triste in un secondo guardando una pagina di un fumetto giapponese in particolare Tezuka in questo caso diciamo come dire stressa questo fatto in una maniera formidabile ok un'altra cosa molto interessante di Tezuka è che Tezuka arriva a un come dire a un'estremizzazione ulteriore di questo concetto che è quello che gli stessi personaggi sono l'atori ok cioè il character design dei personaggi di Tezuka funziona non diversamente dalle maschere del teatro ok nel senso che sono sempre gli stessi attori lui utilizza un cast fisso di personaggi che si ripetono all'interno delle sue storie in maniera tale che quello che è il professore matto la vecchia come dire maga o il bambino gentile ok siano riconoscibili con un colpo d'occhio perché sono un cliché sono uno stampino e si ripete ok come in un codice di segni fisso in tutte le sue storie cosa ha a che fare questo cosa ha a che fare questa cosa qui con la velocità ha a che fare con il fatto che leggere una pagina di Tezuka è un'esperienza estremamente veloce una volta che il codice grafico arriva al destinatario ok quindi Tezuka introduce in una maniera codificatissima un sistema di segni che garantisce alle sue storie qualora lui lo vuole ok un'accelerazione formidabile ok in questa pagina succede di tutto ok e sicuramente noi riusciamo a leggere le singole azioni proprio per la loro platealità un'altra cosa formidabile che ho capito leggendo il fumetto giapponese alla luce della pittura giapponese è il fatto che le sproporzioni del corpo ad esempio mani occhi ok i volti in generale che sono sempre le teste sono un po' più grandi vedete c'è un livello di stilizzazione che non è realistico in questo fumetto non parte dall'assunto che spesso si dice Tezuka disegnava gli occhioni disegnava i personaggi come dire in ammirazione del suo idolo Disney perché aveva visto centomila volte bambi da piccolo questa cosa la racconta lui stesso nella sua autobiografia a fumetti ma la verità è che i personaggi nei fumetti di Tezuka lavorano un po' non diversamente dai mimi quindi con i guantoni bianchi vestito nero in maniera tale che è possibile leggere facilmente cosa fanno con un colpo d'occhio ok è un altro fattore di altissima efficienza grafica e che aumenta tantissimo la velocità di lettura ok un altro fattore fondamentale è il fatto che questi manga venivano stampati con una qualità pessima ok generalmente su carta usa e getta palp ok come definiremmo noi e questa cosa qua rischiava quindi se avesse disegnato i suoi fumetti come li disegnava Alex Raymond il rischio di perdere tutte le espressioni dei personaggi nei suoi fumetti sarebbe stata un rischio enorme ok quindi lavorare con questo enorme fattore di leggibilità garantiva velocità e esattezza ok per consegnare il contenuto ai suoi lettori non è un caso che il manga moderno mi viene in mente ad esempio un disegnatore su tutti che secondo me è eclatante da questo punto di vista che è Obata ok che è il disegnatore di Death Note adesso disegna con un segno che è un micron ok d'inchiostro adesso ci si può permettere di lavorare con un altissimo livello di dettaglio prima no e lui aveva risolto una serie di problemi proprio da un punto da ingegnere ok del fumetto e poi aggiungiamo anche questa cosa sulla velocità della fruizione e quindi che incide nella produzione ecco rispetto al povero Tamburini che aspettava cinque tavole al mese di Danino Liberatore per la sua storia qui in realtà i manga hanno una durata molto generosa tantissime tavole di seguito e anche questo viene tenuto conto dall'autore dal mangaka proprio in funzione della fruizione della leggibilità esattamente un'altra cosa che è molto interessante è il fatto che Tezuka poi giuro non è una lecture su Tezuka però purtroppo dobbiamo farci conti potremmo parlarne per dieci ore ma non lo faremo è il fatto che Tezuka concepisce le sue tavole allora i giapponesi scrivono con gli ideogrammi gli ideogrammi i kanji sono strutturati generalmente con un kanji radicale che rappresenta un'idea ad esempio vuol dire fuoco per farvi un esempio banale e un altro kanji che lo declina magari in un'applicazione specifica che è l'incendio allora c'è la casa in fiamme per fare un esempio adesso magari non è così se c'è un nello specifico con questi due ideogrammi magari se qua dentro c'è uno specialista di giapponese si metterà a ridere però tecnicamente parlando diciamo ci sono dei segni che sono radicali dei segni che declinano che è un'idea in una sorta di sottocartello di quel set di concetti Tezuka progetta le sue tavole in una maniera non dissimile nel senso che la sua idea è che esiste un'immagine radicale all'interno della tavola che è la vignetta grande che ti fa capire cosa sta succedendo in quel momento e poi viene spezzettata in tutta una serie di satelliti vignette satelliti che servono a declinare il momento della storia però il fatto ovvero Blackjack sta a casa di questa persona a parlare è rappresentata con un gran disegno che deve rendere il senso della pagina questo perché Tezuka era convinto che dovesse essere possibile leggere in maniera anche distratta i suoi fumetti e bastasse tutto sommato vedere una vignetta ogni tot per leggere la pagina in più Tezuka quindi definisce un ritmo narrativo molto speciale da un punto di vista di scrittura che è quello di raccontare un fatto grande della sua storia per pagina questo comporta il fatto che lui poteva raccontare centinaia di pagine e fumetti mantenendo di serie diverse contemporaneamente mantenendo sempre le idee molto chiare su come distribuire il suo lavoro da autore senza perdere diciamo mai il filo delle sue storie perché lavorava con un sistema a blocchi molto generoso tutto sommato no? Quello infatti è la caratteristica del suo lavoro alcuni dicono che è il motivo per cui è morto giovane proprio perché faceva lavorava 20 ore al giorno non dormiva non mangiava non respirava e c'è anche un bellissimo documentario che si trova su youtube di una giornata nello studio di Tezuka negli anni 80 e lì si vede proprio il suo metodo di lavoro di tante pagine lasciate lì pronte a metà lui si concentra in un attimo e ne finisce una poi si stacca completamente con la mente e ne comincia un'altra probabilmente in questa tua analisi hai catturato il metodo di lavoro per cui nel suo cervello era tutto un po' a compartimenti ma partendo da tutta una serie di codici di possibilità già prestabilita è anche peggio di così adesso ti spiego perché ma questo semplicemente perché è interessante visto che mi dà un gancio sempre per non parlare solo di Tezuka visto che poi parleremo di Tezuka in questa pagina successiva novità è una pagina di Tezuka di Blackjack esattamente no è molto interessante il fatto che Tezuka utilizzando un cast fisso di attori e utilizzando questo sistema di un fatto per pagina era in grado spesso e volentieri di utilizzare pagine di altre storie e fumetti per completare magari storie che non faceva in tempo a finire perché erano compatibili cioè nel senso tutto sommato lui poteva lavorare come con i Lego aveva prodotto una tale mole di pagine per cui c'è proprio questa scena durante quel documentario in cui lo chiamano e lui dice utilizzate pagina 16 di quel fumetto di 4 anni fa che vedi che va bene perché gli mancava una tavola non faceva in tempo ricicla una pagina di un fumetto che ha già fatto già stata pubblicata e funziona perfettamente quindi per farvi capire che era completamente pazzo ora perché insistiamo ancora su Blackjack perché Tezuka nasce e si forma come medico o chirurgo peraltro fa una stranissima tesi di laurea su non mi ricordo degli animali esotici delle robe insomma pratiche sessuali tipo di animali esotici ora vabbè adesso non mi ricordo tropicali quant'altro e quindi ha una grossa preparazione da quel punto di vista è legato chiaramente alla rappresentazione scientifica della realtà ok essendosi formato come medico Blackjack parla di questo chirurgo super chirurgo è una sorta di dottor house 5 milioni di volte più figo che si è parlato con tipo non lo so a Friedrich Nietzsche ed è molto interessante il fatto che quando lui decide di aprire le sue i suoi pazienti che non sono vittime in realtà dico vittime perché in realtà Blackjack funziona un po' come il Faust nel senso che nel momento in cui tu decidi di farti operare a Blackjack lui sai che ti salverà la vita ma lui in cambio ti chiederà sostanzialmente la tua vita quindi è una roba complessa è bellissimo meraviglioso è veramente è l'unico supereroe tutto sommato che ha il superpotere di toglierti di salvarti la vita sempre è bellissimo e quello che succede è che quando Blackjack opera e apre il suo paziente l'interno e la rappresentazione della malattia diventa questa qui quindi da un fumetto che si legge ad altissima velocità Tezuka alza il livello di dettaglio del suo fumetto cambiando completamente il ritmo di lettura del fumetto ok questo giochetto qui che sembra la palissiano ok non lo è affatto ed è il cuore di perché il tempo nel fumetto giapponese diventa un elemento sostanzialmente in mano all'autore e non al lettore perché normalmente i fumetti a differenza del cinema noi abbiamo un film c'è una durata una scena è il regista a scegliere quanto dura ok per quanto esista poi un tempo soggettivo oggettivo che è quello lì di quanto vi state divertendo annoiando vedendo un film la durata è misurabile nella scala nel termometro di McLuhan medium tezuka caldo e diciamo nel cinema appunto io so che entro in sala dura due ore nel mio tempo di fruizione infine nei fumetti come nella letteratura invece è molto soggettivo esatto Tezuka diciamo che riesce in qualche modo a controllare la mente del lettore e inizia a fare un'operazione che adesso poi vedremo negli autori moderni e oramai è uno standard che è quello di accelerare e frenare la lettura e questa cosa qua è incredibilmente innovativa concludo con questo excursus anche se vorrei farvi vedere rapidamente che questo tipo di questi sono immagini amatoriali trovate su internet non sono di nessun disegnatore ed è molto interessante il fatto che tutti i disegnatori oramai sono arrivati a concludere che le espressioni standard del manga sono queste e sono sempre le stesse sostanzialmente ok questo per rimarcare il fatto che parliamo di un linguaggio codificatissimo ok in cui i neologismi sono rari esistono ma cominciano ad essere un po' rari ok rispetto a prima proprio perché tutto sommato non conviene complicare la vita al lettore conviene utilizzare dei segnali che siano forti e chiari ok questo è Tezuka che disegna il suo Astro Boy ok torniamo nel nostro flusso narrativo invece di prima che ho chiuso no eccolo qua ok eravamo a partire da qui siamo in ritardissimo ok ma acceleriamo ok Gonagai te lo lascio il grande il grande Gonagai anche qui siamo generazione successiva a Tezuka è stato l'autore dei dei robotoni alla fine no che se vogliamo sono un po' i supereroi del fumetto giapponese quindi tutti da Mazinga Z in poi Goldrick il grande Mazinga Gig Robo i vari Getta Robo e in particolare tutta questa sua fascinazione per il mondo letterario dantesco che si rivede in Devilman maudante e nella riduzione che lui ha fatto proprio della Divina Commedia allora su Gonagai l'accelerazione è praticamente un personaggio appare in tutte le storie ma anche le pause chiaramente quindi diciamo questa gestione del ritmo che già appartiene al manga in questo caso portata anche all'estremo cioè scompaiono gli sfondi entrano in scena delle soluzioni grafiche anche tendente all'astratto vediamo ecco questa è la trasformazione classica del pilota di Gig Robo nella testa del robot e poi il lancio dei componenti e la trasformazione questa è proprio una doppia tavola iconica che conosciamo tutti anche se qui poi tra l'altro è montata all'occidentale però appunto ci dà già l'idea della velocità cioè noi vediamo tutte le fasi tutti i passaggi della trasformazione che si svolge però congelata in cielo esatto esatto diciamo che la paratassi cioè nel senso il fatto che le immagini sono separate fra di loro rende interessantissimo il lavoro di Gonagai perché Gonagai gioca con i pupazzetti come farebbe un bambino su un foglio da disegno tenendo tutte le robe molto separate fra di loro però con questo enorme senso del dinamismo della velocità un dinamismo e adesso qui entriamo nel vivo della questione sul più bello sul finale che nel fumetto giapponese assume come dire una caratteristica unica ok vi ricordate prima parlavamo di rappresentazione della velocità oggettiva ok nel fumetto giapponese la rappresentazione della velocità è soggettiva cioè siamo noi che ci muoviamo con i protagonisti del fumetto ok e questo crea una connessione ok fra noi e i personaggi del fumetto formidabile che aiuta nella scansione diciamo dell'immagine la percezione dello spostamento del tempo in maniera formidabile ok e l'accelerazione nel fumetto arriva a dei livelli senza paragoni ok nel fumetto del resto del mondo ok di tutto il mondo la forma anche di rappresentazione soggettiva cinetica in moltissimi manga arriva a diventare una rappresentazione anche di uno stato d'animo dei protagonisti come in questo caso in cui quelle linee cinetiche stanno sì parzialmente a rappresentare il come dire il fatto che il personaggio come dire si sta muovendo su uno sfondo e noi siamo con lui ma fondamentalmente noi siamo coinvolti con lui nella incredibile azione che sta compiendo lo sforzo che sta facendo è rappresentato graficamente e tutto il resto scompare esattamente ora questo livello come dire di rappresentazione dell'azione rispetto ad esempio anche al fumetto americano e qui siamo di fronte a un chiaro esempio di fumetto supereroistico tutto sommato giapponese è incredibile perché ci tiene incollati su quello che sta succedendo senza farci perdere mai il senso della velocità quindi senza avere quello scambio che nel fumetto americano c'è fra leggibilità e velocità che è anche un compromesso diciamo invece in questo senso in mangaka nessun compromesso cioè se la missione è quella di accelerare o di fermarsi lo fanno anche diciamo a costo della storia diciamo ed è molto interessante che da soluzioni grafiche si è arrivati a concepire delle nuove idee dell'azione ad esempio per dire questa cosa che poi in Dragon Ball come dire è rappresentata in questo modo ma in Okutono Ken diciamo sboccia l'idea della tempesta di Cazzotti ecco è molto bello il fatto che venga rappresentata con questo schiacciamento di 3000 azioni al secondo all'interno di un disegno come dire arrivando per quello che mi riguarda la saturazione del concetto di velocità impossibile andare più veloci di così ora tra parentesi cito anche Giorgio perché sarebbe impossibile non farlo perché è un fumetto invece che gioca con il tempo proprio con questo personaggio che si chiama The World questo qui è il suo stand che ferma il tempo ed è velocissimo nel tempo quindi l'idea diciamo del supereroe cinetico in Giappone diciamo ha raggiunto qualunque livello come dire di ormai eradicata no sì ma soprattutto di acrobazia tra scrittura e disegno di effetti di trovate cioè comunque ciascuno cerca di dare un'interpretazione sempre tenendo presente quel codice comune del racconto delle immagini ora Hiroaki Samura che è un autore tutto sommato moderno e comunque ha una quindicina d'anni credo mi pare una roba già di 16 anni credo il suo fumetto la sua opera lunga no 20 anni eh sono 20 anni sì sono io che sono invecchiato esatto e è interessante per il fatto che lui è un altro di quegli autori che ha un controllo formale sul tempo formidabile e passa da una rappresentazione del tempo oggettivo alla rappresentazione del tempo soggettiva fino ad arrivare a pagine in cui decide di fermare il tempo alzando il livello di dettaglio in maniera formidabile ok e bloccando congelando sostanzialmente azioni come dire che sono palesemente di grande velocità in un momento icastico ok e la sua capacità di di fare questo arriva a comprendere il fatto che non solo è necessario alzare il livello di dettaglio ma introducendo della decorazione all'interno delle sue pagine o fumetti capisce che il tempo lì verrà bloccato come in nessun altro modo cioè lui arriva a introdurre rumore ok all'interno dei suoi disegni pur di rendere illegibile la vignetta ok in maniera tale che sia possibile fermarsi sul disegno quanto più tempo possibile io vi garantisco che queste tavole qui arrivano alla fine di combattimenti che sono al fulmicotone sono velocissimi e lui le chiude sempre con queste immagini estremamente decorative su cui per forza di cose diciamo arriva il colpo di grazia certo e poi ovviamente è come un fermo immagine esattamente al termine di un'azione esattamente qui c'è un altro esempio anche dell'utilizzo del dettaglio nel momento in cui non te l'aspetti che serve a svelarci a stare lì con il protagonista a staccarci da una rappresentazione oggettiva per stare fermi nel tempo all'interno del protagonista dell'immagine questo è sempre Samura queste sono due immagini dello stesso fumetto qui loro stanno combattendo tutto supercinetico comprese anche le onomatopee vedete servono a convogliare l'idea del mosso fino ad arrivare alla stasi totale con l'uccisione del samurai vedete dal dinamismo estremo all'immobilità più totale alla cattura dell'immagine statica c'è un sempre Samura vedete anche l'utilizzo delle nuvole per nascondere delle linee cinetiche invisibili per mantenere una rappresentazione fotografica pur facendo fede agli strumenti l'idea del tempo soggettivo che poi modifica i contori la cosa molto bella di Samura è che Samura fa spesso questa cosa delle macchine da presa che viaggiano per cui nella prima vignetta che purtroppo aspetta vediamo se riusciamo a vederla ecco così per intero quell'immagine sopra è molto interessante perché sono due mossi sovrapposti cioè il personaggio che sta viaggiando a una velocità lo sfondo che fuori fuoco a un'altra velocità e lui riesce a rappresentare questi due mossi contemporaneamente creando è veramente dopo di questo bisogna passare all'animazione per avere di più e probabilmente è difficile ottenere questo senso di movimento e qui ci sono altri esempi invece di mangaka che hanno fatto invece dell'assenza di velocità controllatissima ok il come dire qui il fattore della sospensione del tempo la negazione della velocità è un come dire è un elemento come dire eclatante al pari di quello che abbiamo visto poco fa con il lavoro di Samoa qua si passa poi anche target diversi perché sappiamo che in Giappone un po' tutti i fumetti i manga ma anche i film vengono etichettati a seconda del target che hanno e c'è questa grande divisione tra shonen e seinen i shonen sono i fumetti più per ragazzi mentre i seinen diciamo dalla maggiore età in su e questo chiaramente è una linea editoriale che incide sui contenuti e per forza di cose anche sulla forma come appunto vediamo in Gito Taniguchi e tanti altri autori dove l'azione è più intima e più psicologica qui abbiamo Naoki Urasawa nella sua rilettura del classico di Tezuka Astro Boy dove appunto conta più l'intero sempre Tezuka non ce l'abbiamo per forza e appunto qui abbiamo un'introspezione dei personaggi da parte di autori ben consapevoli poi delle possibilità del manga quindi sono scelte ponderate che fanno sapendo di parlare a un determinato pubblico esattamente ora voi avete delle domande fino adesso che magari vorrete farci delle domande ok abbiamo detto tutto sì no niente ok possiamo andare a ruota libera perfetto anche perché più o meno ci siamo però quindi però io volevo far vedere invece come tu nel tuo lavoro hai affrontato accidenti ok la velocità e il movimento io spero di cavarlo senza farla questa cosa ma va bene ok allora dunque no anche perché dopo che abbiamo visto Raki Samura Tezuka e quant'altro e poi io faccio anche i fumetti a casa con i miei pegnarelli interessante come no invece per fortuna sono ben pubblicati i tuoi fumetti ok ma parliamo di questa cosa di Devilman un secondo un secondo ok no ci tengo a farvelo vedere questa cosa perché per me è una delle vignette più belle della storia del fumetto questa e cioè c'è Devilman che trova la famiglia della sua finanzata fatta a pezzi e insomma ci rimane piuttosto male si accorge che esistono cioè ci sono una serie di persone che stanno cercando di sgattaiolare cercando di farla franca lui se ne accorge e urla per per fermarli no cioè li chiama ora in questa vignetta qui c'è un segreto e cioè che la linea cinetica su Devilman al di là del fatto che sicuramente segue la mano il dito in prospettiva un classico di Nagai ma la cosa che è più interessante è che le linee cinetiche partono dall'addome di Devilman quindi questa è una rappresentazione oggettiva della voce e questa cosa qua è unica nel senso non c'è in nessun altro fumetto della storia dell'umanità mi ha sempre colpito ed è interessante il fatto che in un fumetto come dire che ha sicuramente fa dell'efficacia no della semplicità ok i suoi punti di forza perché Gunagai ha una forza espressiva che passa proprio dal togliere tutto quello che non serve c'è un'efficienza diciamo fra segnale e rumore che non è paragonabile quasi a nessun altro fumettista però ecco quando può spara come dire dei colpi da vero maestro come in questo caso comunque dopo avervi fatto vedere questa cosa sarà finitissima passiamo appunto a anche perché prima o poi al di là della pittura fotografia o altro nel linguaggio sequenziale dei fumetti prima o poi l'autore il disegnatore si deve misurare con la velocità sì ora io non posso fare altro che dirvi che a questo momento che stiamo vedendo adesso è un fumetto vecchio ok quindi ha il suo però sempre efficace Astro Gamma ok Astro Gamma questo libro è uscito da una raccolta di storie brevi che ho fatto che sto dicendo di una storia di episodi ok che è stata pubblicata su una rivista ammiraglia dei super amici che era il mio collettivo di fumetti esatto la rivista Robby Comics i super amici erano il collettivo di fumetti di cui facevo orgogliosamente parte e e niente Astro Gamma ha cercato di applicare queste piccole cose che ci siamo detti ok quanto più possibile quanta più attenzione possibile per cercare di fare il fumetto che avesse o la gestione del tempo ok più precisa possibile no per cui si passa da situazioni come questa no in cui si racconta un gesto molto piccolo a un altissimo livello di dettaglio da un punto di vista grafico altissimo per gli standard del fumetto che disegnavo che comunque un disegno tutto sommato elementare come tipo di disegno cioè delle figure vuote ecco non è Alex Raymond questo è poco ma sicuro e ha la sospensione del tempo no di fronte ad esempio per dire a un'apparizione di una creatura sconvolgente come uno sterco raro gigante un cervo volante gigante ha la rappresentazione no del del tempo soggettivo fino a poi la rappresentazione invece dell'azione oggettiva come in questo caso in cui ho utilizzato magari gli elementi naturali per dare il senso dello spostamento nel tempo o all'utilizzo di tutti gli strumenti a disposizione che ci hanno lasciato i maestri le trovate grafiche come la rappresentazione ad esempio una roba di cui abuso spesso è la sospensione di fatti fisici come esempio per dire la dispersione di elementi nello spazio oggetti che stanno per cadere ok perché il fatto che un oggetto ad esempio per dire sia sospeso nel vuoto ti fa capire che sta per cadere e quindi genera già un fotogramma successivo nella tua testa rendi complice il lettore esatto crea un prima e un dopo che è di grande efficacia c'è questo autore giapponese di fumetti che si chiama Yokoyama Yuchi Yokoyama edito da Picturebox in America e da Canicola edizione in Italia se volete leggerlo tradotto in una lingua che non sia giapponese che era un pittore e durante la lavorazione di un quadro lui si è detto ma io voglio sapere che succede prima e dopo questo quadro e quindi ha fatto un trittico sostanzialmente e poi ne ha fatto ancora prima ha fatto questa mostra di questo prima e dopo di questo quadro e un mangaka che è andato a vedere questa mostra gli ha detto beh si è messo a fare i fumetti hai disegnato una sequenza ora e lui quindi a quel punto arriva alla conclusione del fatto che effettivamente il fumetto diventa necessario quando di un disegno vogliamo avere il prima e il dopo ok questa cosa qua per quanto sembri una banalità non lo è soprattutto se uno ha voglia di fare illustrazione e fumetto o voglia fare l'animazione e il fumetto e l'illustrazione perché bisogna essere come dire sono scelte di medium diverse esatto bisogna avere le idee chiare quando ci si siete a decidere cosa fare e allora è evidente che ognuno di questi strumenti ha una caratteristica molto diversa il fumetto sicuramente il prima e il dopo li usa proprio come strumento per scardinare la testa dello spettatore che è quello che crea poi nello spazio bianco fra le vignette i fatti che sono successi per creare appunto questo senso del tempo anche la griglia in questo caso è super dinamica è tutta tagliata su linee sghembe proprio per non dare riposo respiro all'occhio in maniera tante che sia pure difficile capire cosa sta succedendo prima e cosa dopo perché tutto sommato in questa immagine qua in cui questi animali vengono fatti e pezzi da astrogramma è evidente il fatto che l'idea è proprio quella della confusione di un attacco come dire che non lascia scampo è un casino un casino controllato anche qui siamo come vediamo prima questo è proprio come dire un compitino fatto secondo le regole del fumetto nipponico questa è una tavola che può essere interessante più che altro perché la dinamica l'accelerazione nella lettura può essere anche guidata da elementi grafici che ovviamente non sono necessariamente linee cinetiche in questo caso c'è questa prospettiva ritmica di questo palazzo che ti porta a guardare senza ombra di dubbio il soggetto della tavola e questa è una doppia pagina molto grande quindi l'occhio è facile che possa vagare dove vuole in questo caso qui è bene come dire che fosse chiaro qual era il punto come dire d'attenzione all'interno della tavola questa è una tavola super statica per dire fa parte sempre dello stesso fumetto qui siamo sempre alla sospensione del tempo ad esempio l'azzeramento dello sfondo sono tutti elementi che servono a controllare il tempo di lettura no balloon no testo solo disegno niente sfondo il tempo è fermo una gestione anche emotiva del tempo come spesso anche nei cartoni giapponesi si vedevano immagini bloccate dei personaggi con uno sfondo di un colore magari acceso viola la rabbia o quant'altro ora in golem che è un fumetto a colori in cui succede un sacco di roba oltretutto è se si me le sono ricordate non ho fatto un grande uso in realtà delle linee cinetiche non succede quasi mai però mi intriga ad esempio per dire questo salto che purtroppo devo ricomporre perché mi sono accorto che ho fatto un po' di casino con le immagini scusate questa va qua dentro e questa qui stava di qua eccola qua però ci sono appunto dei casi come questo qui che mi sono perso dove è che stava sta facendo finta non vuole farci vedere eccomi eccomi eccola qua sì ci sono dei casi ad esempio in cui mi diverto spesso a fare questo tipo di sì in effetti sembra che ce la sto mettendo tutta ok in cui posso passare ad esempio per dire da una corsa forzennata di tutti i personaggi in tutte le direzioni che aprono verso tutte le direzioni della pagina quindi siamo proprio all'ipercinetismo soggettivo per poi sfondare una porta e bloccare il tempo in questo momento di sospensione fisico in cui tutti questi elementi sono sospesi nel vuoto in cui gli oggetti sono tutti disegnati dalla stessa luce quindi sono proprio sospesi con l'idea quasi che tu ci possa girare attorno come fossero una scultura ok questo livello come dire di scarto fra super velocità e frenata ok è uno strumento è un effetto speciale questo anche piuttosto dozzinale se vogliamo è una roba un po' da blockbuster però ha la sua efficacia da un punto di vista grafico sicuramente e sicuramente serve a controllare il tempo di lettura soprattutto specie soprattutto amplificato dal fatto che per quanto questo sia un disegno che è diviso in due parti cade a metà fra due pagine quindi anche la separazione come dire del disegno in due grandi aree serve a proprio facilitare la lettura fra due campi ok è sicuramente vero che poi una splash page per definizione è un momento di stop assoluto per la lettura quindi un ulteriore strumento in più ora io veramente per quanto mi diverto tantissimo a far vedere i miei disegni io non vi voglio annoiare i miei disegni quindi non lo so veramente se non avete altre domande io la chiuderei qui ok vi ringraziamo per essere intervenuti questa sera e ringraziamo Lorenzo Ceccotti che ci ha fatto questo bellissimo escursus grazie grazie